Manca pochissimo alla conclusione della campagna elettorale in vista delle urne da cui uscirà il nome del nuovo sindaco di Chieti. A mezzanotte infatti scatterà il silenzio elettorale fino a quando i cittadini armati di matita esprimeranno il proprio giudizio. I cinque candidati sindaco quest'oggi ci hanno confidato in che modo stanno vivendo queste ultime ore prima del voto, tra speranze, stanchezza ed entusiasmo, ma anche tristezza a seguito della tragica morte dell'ex consigliere regionale 5 Stelle Riccardo Mercante. È una campagna elettorale molto emozionante, siamo arrivati alla fine, mi ha dato tanto anche in termini di arricchimento dal punto di vista umano, incontrare tanti con cittadini, ascoltare, vivere le realtà che purtroppo sono state totalmente dimenticate, abbandonate per colpa di una classe politica di sinistra e di destra totalmente inadeguata. Credo che la cosa più bella è sentire questo afflato, la gente che ti vuole bene, la gente che crede in te, la gente che ha fiducia. E questa è la soddisfazione più bella per chi fa politica. Siamo arrivati stanchi ma con un entusiasmo pazzesco perché non mi aspettavo che nel giro di qualche mese potessimo portare a termine un'operazione del genere. Qui c'è gente che mi avversa, che si è preparata alla campagna elettorale da anni, chi aveva costituito dei programmi. Tra lockdown e la mia scesa in campo abbiamo stravolto il panorama politico chietino. Una campagna bellissima ma estenuante da un punto di vista sia fisico che ovviamente anche psicologico, fatto con compagni di viaggio straordinari. Purtroppo la campagna elettorale si è chiusa con un lutto, penso alcuni di voi già lo sappiano, è venuto a mancare il nostro ex consigliere regionale mercante. E purtroppo oggi pomeriggio quindi abbiamo annullato per rispetto la famiglia tutti gli eventi in programma. Domenica e lunedì i teatini sono chiamati alle urne e martedì mattina si conteranno i voti. Ogni candidato trascorrerà quel momento di apprezzione in maniera diversa. Qualcuno infatti è più scaramantico, qualcun altro meno. Alcuni assisteranno allo spoglio in compagnia, altri da soli e c'è chi piazzerà le tende nella propria sede elettorale. Assisterò qui alla sede di Corso Marrucino, quantomeno diviso tra la sede a Chieti Alta e la sede a Chieti Bassa in via Benedetto Croce. Ci saranno sicuramente tantissime persone, tutti candidati, osservando tutte le regole ovviamente di sicurezza. Con il gruppo di amici, di candidati che sono a sostegno della mia candidatura e fanno parte del mio progetto, saremo tutti quanti insieme uniti a sperare che i cittadini abbiano compreso la nostra proposta. Faccio un appello a venire a Chieti, a tutti gli attivisti d'Abruzzo, ad assistere insieme alle operazioni di spoglio martedì mattina che inizieranno alle 9. Io normalmente non l'assisto, di solito quando era nelle fasi canoniche, si svolgeva di notte, io dormivo, andavo a dormire e poi al mattino mi svegliavo e attendevo che qualcuno mi comunicasse il risultato. Normalmente ho sempre vinto, io non ho mai perso un'elezione. Io ho voglia di starmi un po' a casa con i miei cani, con il mio spazio, la campagna, non so se farci o andare con qualche amico. Non lo so perché la prima volta, io sono molto scaramantico, le partite del Chieti e dell'Inter me le vedo da sole, chiuso in buio. Non lo so, questa è una campagna nuova, quello che mi uscirà allo spoglio, vedrò, sarò molto spontaneo. Ed eccoci quindi alle battute d'arresto di questa campagna, a meno che non si arrivi al ballottaggio, che implicherebbe ulteriori due settimane per convincere gli elettori. Tutti i candidati sindaco se lo augurano, a eccezione di Di Stefano che intende vincere al primo turno. Io vorrei tanto concludere martedì perché il 24 si riaprono le scuole e vorrei farmi trovare pronto di fronte a qualunque venienza. Ormai lo percepiamo, andremo sicuramente al ballottaggio e di lì potremo puntare alla vittoria, a liberare finalmente i Chieti da questa classe politica che l'ha piegata. Penso obiettivamente che saranno altre due settimane di campagna elettorale perché nessuna forza politica penso abbia la forza di vincere al primo turno. Ci aspettano altre due settimane che probabilmente saranno altrettanto faticose ma piene di soddisfazioni. Guarda, io sono uno sportivo e non faccio pronostici, quindi se parlo da sportivo tutto può succedere, una partita di calcio, di tennis, il vento, la pallina che ti va strana.